Sura centonovesima Al-Kafirun I miscredenti In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso Di O miscredenti, io non adoro quel che voi adorate e voi non siete adoratori di quel che io adoro Io non sono adoratore di quel che voi avete adorato e voi non siete adoratori di quel che io adoro A voi la vostra religione, a me la mia Grazie a tutti Grazie a tutti